Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FaviJ Ed oggi siamo tornati su una cross ball challenge che non facevo da tipo un anno Però l'ultima volta l'ho fatta con i mate, oggi la facciamo con i Pantella E la teco l'abbiamo portati qua ragazzi perché oggi vi faccio vedere quanto la mia maestria è migliorata nel corso di quest'anno Facciamo tre tiri a testa, tre palle positive, come l'altra volta, quindi che stasso spiegare? Facciamo l'altra volta, vai! Ma cosa fai? Ho la responsabilità di partire per primo, quindi auguratemi buona fortuna Una bella musica Mecca Daniel Oh mio Dio! E grazie al mio culo che ce l'ha fatta Per tutto il resto del video non farò mai più niente, questa va bene Il culo che vince non si cambia Ahahah 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 Cioè è impossibile Guardate qua Cioè non riuscirà mai più nel tutto il video, è incredibile sta cosa Boh raga non c'è due senza Ma io me ne vado Ragazzi spero che il video vi sia piaciuto Con la stazione mia mi piace un commento mi piace Ma dai Basta Non dobbiamo più registrare, abbiamo finito, va bene così Donne Ho un gran culo Ma come cazzo è ciò? Eh E' un aglio Ma io ne prendo un'una Vabbè Avete messo una calamita sulla traversa questa roba E' il culito Ma basta Sono le tagliatelle di Manali E' lo Spontelas Vai dai faccio il testo Nooo Finalmente E' morto il piede Prego Grazie Partiamo già così eh Dai che tutta la figa arriva Allora Io faccio il rose del titanico Porca Siamo forti oggi 9 tiri 7 sono crossbar Ma è successo? E non avete ancora visto me Sono pronto allo 0 su 3 ragazzi Così almeno riequilibriamo tutto Davvero uno lo faccio Nooo Facciamo un crudio Uno raga Ma raga abbiamo Adesso vedrete lo schifo più totale Perché non avremmo mai più quello così Però La mia carriera calcistica è finita Non va 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 e uno va vai Jay godo un maialino va beh metto l'energia ha funzionato ha girato male l'obiettivo è diventato lui basta l'aveva presa oh è buona lo sapevo 150.000 like per sta roba quindi ragazzi questa era la crossbar challenge con i ragazzi ringrazio Pantella per aver partecipato a questo video concludiamo qua perché in realtà eravamo fermi mentre facevamo questa cosa ma io mi sono stancato a morte non so loro comunque io vorrei far notare che in una crossbar challenge lui è riuscito a farsi queste cose stando fermi stando fermi un fenomeno allora ragazzi spero che il video vi sia piaciuto concludo qui l'episodio ringrazio ancora i Pantella seppietto per aver partecipato a questo video se non siete riusciti iscrivetevi e ci rivediamo ad un prossimo video bello ragazzi